Salve a tutti amici, ci siamo, questa è la nottata in cui sapremo il risultato di quelle che sono le elezioni più importanti della storia moderna, ovviamente le presidenziali degli Stati Uniti che vedono Donald Trump alle prese con lo sfidante Joe Biden per la riconferma della presidenza, la riconferma alla Casa Bianca. Ovviamente i risultati arriveranno nella migliore delle ipotesi, i risultati definitivi arriveranno domani mattina, ma è possibile che invece le cose vadano diversamente, è possibile che ci siano ritardi consistenti e già adesso la Casa Bianca ha fatto sapere che prevedono dei ritardi. Ci sono una serie di elementi che però già adesso possiamo analizzare e che sono tutti piuttosto preoccupanti. Da un lato c'è un afflusso record a quanto pare, un afflusso molto alto con delle code in vari seggi di vari stati. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire evidentemente che i cittadini americani hanno ben chiaro che si tratta di una scelta epocale, hanno perfettamente chiaro che in questa occasione, differentemente da molti altri casi del passato, la vittoria di uno o dell'altro dei due candidati segnerà davvero uno spartiacque, e per la storia degli Stati Uniti e per la storia del mondo, perché mai come oggi ci sono stati due candidati che rappresentano due visioni del mondo davvero lontane e contrapposte. Il problema è che la stessa cosa avviene a livello popolare, cioè è stata fomentata una rottura drastica tra i due elettorati con un profondo odio e per questo ci sono alcuni dati molto significativi. Ad esempio in alcune aree di Beverly Hills e altre zone particolarmente ricche delle città americane è stata interdetta la circolazione alle auto, sono state chiuse e blindate con la polizia che sorveglia le strade. C'è stato poi un boom nell'acquisto di armi. Insomma ci sono elementi che sullo sfondo lasciano intravedere una sorta di scenario da guerra civile, della quale peraltro ci sono state alcune prove generali, per esempio con gli scontri relativi al Black Lives Matter, cioè gli scontri su base etnica che sono stati largamente finanziati e sponsorizzati da grandi gruppi, da grandi fondazioni come la fondazione Rockefeller, come la Open Societies di Soros, che hanno riempito di denaro le organizzazioni che manifestavano anche in maniera violenta, accusando in buona sostanza il Presidente Trump di essere responsabile delle morti dei cittadini afroamericani uccisi dalla polizia. Tutto questo ci lascia intendere che il risultato, se non dovesse essere quello sperato dal sistema, cioè la vittoria di Biden, potrebbe non essere accettato da una parte della popolazione e dell'establishment. Ricordiamoci che Hillary Clinton ha dichiarato che a prescindere dal conteggio del voto non si potrà accettare in nessun caso una rielezione di Donald Trump. Quindi per molte ragioni questa lunga notte sarà davvero essenziale per capire quale sarà il nostro futuro sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista del modo in cui viene affrontata l'epidemia di coronavirus, dal punto di vista delle guerre che potrebbero o potrebbero non nascere in base a chi sarà il Presidente. Noi durante questa nottata vi aggiorneremo periodicamente, cercheremo di aggiornarvi periodicamente con i risultati, con l'andare avanti, il configurarsi, se possibile, di uno scenario chiaro. In ogni caso sarà davvero indispensabile aspettare fino all'ultimo momento e forse addirittura oltre per capire dove sta andando il mondo e per capire se ci troviamo di fronte a una sorta di grande restaurazione degli equilibri precedenti non solo alle elezioni di Trump ma in generale a tutta una serie di fenomeni come la Brexit, come l'elezione in Italia del governo gialloverde, già accantonata e neutralizzata. Quindi se assisteremo a questo grande ritorno del sistema precedente oppure se l'elezione di Trump darà la spallata a una governance globale che si è rivellata fallimentare ma che non accetta di andarsene. I cittadini americani hanno questa enorme responsabilità ma non è detto che alla fine siano proprio loro a decidere anche perché ci sono più di 80 milioni di voti che sono arrivati per posta e che sono scarsamente controllabili e quindi anche l'ipotesi di un voto non chiaro e non trasparente c'è e alimenta la possibilità di scontri all'interno di quello che è ancora oggi lo stato più potente del mondo.